Dopo il grande successo romano, Troisi, poeta Massimo, arriva finalmente a Napoli con un percorso espositivo interamente dedicato al rapporto di Massimo Troisi con la città, la grande mostra multimediale dedicata alla carriera e all'anima di uno dei più amati artisti della nostra storia. Fino al 25 luglio, Troisi, poeta Massimo, è un percorso tra fotografie private, immagini d'archivio, locandine, filmati, carteggi personali inediti che condurranno il pubblico nel mondo più intimo dell'artista. L'evento è stato promosso e organizzato dall'Istituto Luce Cine Città con l'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli e 30 Miles Film. La mostra è veramente credo forte perché ci sono cose veramente mai viste e che secondo me descrivono bene il percorso artistico, umano soprattutto e personale di Massimo. C'è Milo Manaro, c'è il Rec, c'è il grande Lello Esposito, addirittura Mollica, insomma c'è un sacco di artisti che evidentemente hanno amato Massimo e quindi hanno voluto raccontarlo in un'opera. Ma sono tanti gli eventi di questo fine settimana di aperture a Napoli. Grande successo per la mostra fotografica e multimediale su Frida Kahlo al PAN fino all'11 luglio. Nella Casina Pompeiana invece la mostra dedicata a Gustav Klimt, arte virtuale e immagini ed ha riaperto anche lo straordinario complesso museale della Cappella San Severo nel Centro Storico di Napoli. Si potrà visitare dal giovedì alla domenica.